E' proprio un logo di un gelato. Di Pallamare, San Montano. Tipo. Però lo devi dire con un po' più di... La prossima facciamo delle cose più normali. Anche se... E tutto ci aspetta adesso. Tirli Smaglie, nuova stagione. Di quale squadra andremo a parlare oggi? Eh, oggi è... Oggi t'ho preparato una set list che pian piano, passo dopo passo, andrà nella tana del bianconiglio. Sai quando cominci a cliccare sui link di Wikipedia, provvisamente ti trovi, non lo so, a guardare percentuali di caccia alla foca groenlandesi, mentre sei partito da tutt'altro. Traduciamo, andiamo a vedere anche quelle squadre di nicchia? Di più. Di più. Di più. C'è più quelle che... Sconosciute, hai più. Ok. Assolutamente. Va bene. E per farlo però, grande novità ragazzi, ci voleva una botta d'aria fresca. Stamattina abbiamo deciso di rinfrescare le categorie, perché è giusto, certe categorie rispetto ad altre ci sono un po' più deboli, anche perché ce l'avete chiesto voi. E anche perché sono andati dei nuovi trend, quindi è giusto inseguirli, è giusto seguire la moda. Rimangono intoccabili... I nostri pilastri. I nostri pilastri. Shut up and take my money non si può toccare. Prima categoria. Subito dietro, però, abbiamo deciso di impensionare il mezzo capolavoro e il grande Cassano ci ha dato lo spunto giusto. Quindi l'ora in poi la seconda categoria sarà chapeau. Scritto chapeau. Chiaramente. Alla terza, via di mezzo, è il solito intelligente ma non si applica. Alla quarta, io devo dire che ero un po' combattuto perché secondo me quell'espressione ha un significato un po' particolare, però ce l'avete chiesto in tanti e quindi il manco morto, anche lui, va in pensione e lo sostituiamo con l'ombre ormai leggendario e di murignana memoria. Ok, ottimo. E infine comunque il solito nostro classico ma che è staccafonata. Allora. Da cosa cominciamo? Cominciamo, vedo, con la maglia del Lecce, squadra che ha la fortuna di prodursi le maglie in casa. Esatto, ormai da qualche anno, l'avevamo già raccontata, c'è questo marchio M908 perché 1908 è l'anno di fondazione del Lecce. E' una squadra neopromossa, quindi è una maglia di serie A a tutti gli effetti. Attenzione. Torneremo a vedere questo tipo di giallo-rosso con il tema che è un po' un trend di questi anni. Spennellata. La spennellata. Pennellone cinghiale. Questo è proprio grosso. Poi vabbè, ci sono anche la seconda maglia, molto bianca, classica, con le spalle blu. E la terza maglia che ha questa serigrafia di Piazza del Duomo a Lecce. Se non fosse per la serigrafia di Piazza del Duomo a Lecce, questa maglia rimanderebbe un sacco alla maglia della Roma comunque. Però diamo il nostro voto alla prima. Alla prima, ok, esatto. Concentriamoci alla prima. Secondo me è molto più moderna rispetto a tante altre maglie che hanno fatto nelle passate stagioni. Ne avevamo viste parecchie anche nelle scorse tier list. Io devo dire, secondo me è la migliore tra le tre. Sì, rimane la migliore tra le tre. Perché la seconda la vedo un po' troppo plain e la terza la serigrafia mi sembra sempre un po' quella cosa... Che quando non sai cosa fai, sai che ci si fatti dentro la serigrafia di qualche... Un po' una soluzione facile. Anche se mi piace che ci sia un riferimento, Piazza del Duomo, eccetera. No, della prima mi piace particolarmente la spennellata sulla manica che si interrompe qua all'altezza della spalla. Sì, quello non è male. Mi dà quella botta di gratività giusta. Allora, io ti dico, probabilmente andrei sull'intelligente ma non si applica. Però, siccome è un prodotto fatto in casa, verace, siccome mi affascina questa scelta del Lecce di crearsi il proprio brand per tutto l'abbigliamento tecnico, eccetera, battezzo lo chapeau. Oh, lo fai tu! Battezzo lo chapeau. Ok. Io sono d'accordo, secondo me ritorno in serie A in grande stile. Andiamo avanti e passiamo alla serie B. Scagliamo di categoria con la Ternana. Ternana, anche loro presentano il Tris di maglie. Mamma mia. Verrà interessante. Sono veramente tamarre queste maglie, comunque. Vabbè, la prima è normale. Fra altro, notare, c'è molto spazio dato tra lo stemma della squadra e il logo di Macron, che è lo sponsor tecnico, a Terni col cuore, che è un'associazione benefica, sostenuta anche dalla Ternana. Che comunque è un dettaglio che mi piace. 72 è l'anno della promozione. 1972-2022 è l'anno della promozione in serie A. Se non sbaglio, sulle strisce rosse della prima maglia ci dovrebbero anche essere scritti i nomi, dicono le indiscrezioni. Qua secondo me non si vede. No, da questa foto no. Dicono che ci dovrebbero essere scritti i nomi dei giocatori che hanno conquistato quella promozione nel 72. Ah, bello. Quindi, chicchetta anche lì. La seconda maglia. Quanto ti fa torneo di calcio internazionale tra nazionali fine anni 90, inizio anni 2000? Cioè, non sarebbe sfigurata su un Iran, un Portogallo nel 98, una maglia del genere. Sono d'accordo. La terza invece è dedicata ai tifosi, però devo dire che la... come si dice... bella l'idea, l'esecuzione, secondo me. È molto giamaica. Potrebbe essere migliore. Non so, fa molto scapè questa maglia. Mi vedo già ai tifosi sulle colline ombre, seduti lì sul prato. All'ombra di un'acciaieria. Ah, esatto. Allora, a me piace una combinazione di colori così un po' esotica, però sì, l'esecuzione qua con questo, no? Sulla pancia. Intelligente ma non si applica. Dico anch'io. Intelligente ma non si applica, anche se per me la seconda è già un classicone in questo suo essere completamente fuori dal tempo. Ah! Guarda chi c'è Ravanelli. Poi Ravanelli con la maglia del Middlesbrough. Esatto, squadra per cui ha giocato negli anni 90. Subito dopo aver lasciato la Juve. Esatto. Al tempo il Boro aveva come sponsor tecnico R.A. che fa questo grande ritorno e annuncia la sua nuova maglia con penna bianca e con il claim di Italian Job. Eh, questo sarebbe un chapeau soltanto per il claim. Sì, soltanto per aver ritirato fuori Ravanelli. Mamma mia, che vintage che sono andati. Sì, perché poi la maglia di per sé. La maglia è molto, molto classicone. Classico, sì. A me non dispiace perché la banda bianca orizzontale sul rosso, no? Ci sta. Mi fa un po' Spartak Mosca. Mi colletto quei bottoncini, mi piace. Però l'unico elemento che mi piace effettivamente di questa maglia. Non è brutta, ma... Molto play. Non sa di niente, è un po'... Intelligente, ma non sa. Applicalo, diciamo. Io dico perché. Ho battezzato il perché. Però lo devi dire con un po' più di enfasi. Perché. Questa maglia ci riporta quella del Lecce perché è un'altra squadra che si fa le maglie in casa. Ok. Il Nautico, squadra della Serie B brasiliana, che ha questo suo marchio, è un 6, e però rappresenta anche i rischi di farsi le maglie in casa. Perché il giorno in cui dovevano presentare la maglia, la dovevano presentare in una partita contro il Vasco da Gama, però c'è un problema. Il Nautico sta giocando in un altro stadio della città, non nello stadio dove ha la propria sede. E quindi non aveva ancora appiccicato gli stemmi degli sponsor. E il fischio d'inizio è stato ritardato di 18 minuti, mentre il magazziniere del Nautico, in preda al panico, in motorino, portava il pacco con le maglie preparate allo stadio. Il Nautico probabilmente prenderà anche una multa per questa cosa, ma visto che il ritardo è stato di soli 18 minuti e non si è arrivati alla mezz'ora di ritardo, non perderà la partita a tavolino. Io voglio esprimere tutta la mia empatia al magazziniere del Nautico, perché io ero anche magazziniere della squadra di rugby per cui giocavo, e una volta... Ma perché ti hanno declassato al magazziniere o per scelta? No, perché all'inizio ero panchinaro, panchina centrale, proprio un pilastro della panchina, se mi toglievi non funzionava più la panchina. Prendevo anche le statistiche per l'allenatore, capito? E una volta mi sono dimenticato la borsa con le nostre maglie nel parcheggio del nostro campo a Tradate, e me ne sono accorto quando siamo arrivati a Line Up, è dovuto andare il nostro team manager, il mitico Natale, a ripescarle. Che sventure, come Maradona. Ah, magari era la storia della maglia, di quelle che hanno appena messo la lastra. Ma quelle non le avevano perse, però. No. Però, ma sai che sta maglietta del Nautico non è male. Non lo so, mi piace la sfumatura di rosso, ma un bel colpo d'obbio secondo me. Abbiamo altro materiale, ah, ok. Mi disturba un tantino questa striscia blu sul lato, e poi c'è questa mascotte. La mascotte è pacchiana proprio. Molto pacchiana, ma... Però la striscia, guarda, non l'avevo vista ancora la striscia blu, secondo me aggiunge qualcosa di carino. Può spostarci. Ah, è l'obbo, sì, è la... Sì, sì, esatto, è il remi. Ma a me piace molto, mi piace lo stemma, mi piace questa tonalità di rosso. Mi hai convinto con la striscia blu. E quindi io dico un altro chapeau. Condivido. Anche in solidarietà al magazziniere. Ok. E dove parlare di questa? Allora. Ce ne parli tu. La maglia. Il candidato. La maglia dell'Italia. La maglia dell'Italia. L'ultima maglia di Puma. L'ultima, esatto, perché poi già l'anno prossimo passerà. Non so se già quest'anno a un certo punto... No, forse l'anno prossimo passerà. No, no, dal 2023 passerà ad Alidas. A molti non piace questa nuova maglia dell'Italia. Dicono che sia un pigiamone. Io ti dico, sono combattuto perché mi piace l'interpretazione dei quattro quadranti. I quattro quarti, anzi. Sì. Giusto che usiamo la terminologia araldica. L'oro è utilizzato con giudizio. Recentemente. Come ci piace dire. Mi piace anche l'idea che sta dietro ai quattro quadranti. No? L'idea delle quattro... E mi piace il colletto. Il colletto col tricolore spacca, secondo me. E soprattutto appunto mi piace l'idea che sta dietro alla divisione dei quattro quarti. Anche se magari è una supercazzola che si sono inventati e esposti. Però c'è un problema grosso di opportunità perché a Palermo è successa una tal cosa per cui una maglia che celebra le quattro vittorie mondiali dell'Italia nell'anno in cui non partecipa al mondiale... Sì, certo. Fa un po' male. Sì, fa effetto. Fa male. E quindi... Tutto sommato io sono contento di quest'ultima maglia Puma. Mi piace anche come hanno integrato il logo, lo sponsor tecnico con il lettering Puma e l'icona. Insomma è il classicone. E anche visto addosso ai giocatori mi ha fatto un bel effetto sinceramente. Che non mi aspettavo guardando le immagini che hanno lanciato... Io ti dico, se fosse un anno normale o un anno in cui comunque al mondiale ci fossimo andati, per me questa sarebbe una scella per in take my mind. A me piace molto. Ma siccome non ci andiamo è un porché. Porché? Cioè secondo me a un certo punto bisognava cambiare la supercazzola o il tema quando l'Italia non si è qualificata. Anche se probabilmente era troppo tardi per i tempi di lavorazione. Sì, esatto. Però bisognava avere un piano B, ecco. Comunque tema a parte, a me stilisticamente parlando, piace questa maglia. No, no. A me piace molto, a me piace molto però per me è un porché. E poi c'è un'altra cosa che è stata annunciata proprio sti giorni. Oh sì, è questo. Che dall'anno prossimo cambierà anche il logo. Ecco. E lo stemma della Federcalcio. Qui sono un po' meno contento. Porché? Porché? Sì. Va, porché. Non lo so, mi sembra di qualche, potrebbe, la nazionale di hockey. Sembra più un logo di un gelato. Di Pallamane, San Montana. Tipo? Mentre non mi dispiaceva lo stemma precedente. Sai anche a me, piaceva molto. Non lo so, questo mi sembra un passo indietro, non mi piace. Comunque, la maglia dell'Italia ha portato tante polemiche. Adesso cominciamo a scendere un po'. Tana del Bianconiglio. Abbiamo già parlato di ARA. Scendiamo un po' nella Tana del Bianconiglio. E lo facciamo attraverso un tweet. Un tweet di San Marino FanCant. Quel tweet. Quel tweet in cui ha detto Com'è possibile che un paesino, tra virgolette, italiano che è praticamente una montagna con meno di 35.000 abitanti abbia una maglia più bella rispetto a quella dell'Italia? Meno male che ARA c'è e che ha pensato a noi. Questo perché ARA ha fatto una cosa particolare. È il partner della UEFA nello UEFA Kit Assistance Scheme 2022-2024. Cos'è questo Kit Assistance Scheme? È praticamente fatto per aiutare quelle piccole federazioni che magari non avrebbero tutto quel potere di negoziato con gli sponsor tecnici per avere una maglia carina con un po' di identità, un po' di carattere. Domanda. Dimmi. Rientra anche la Macedonia in questo schema? Ci vorrebbe. No, la Macedonia... Ci vorrebbe. La Macedonia secondo me con la maglia con cui è andata all'europeo che è puro oratorio inizio anni 2000 non ha bisogno di nessun Assistance Scheme ha già tutto il carattere di cui ha bisogno e quindi praticamente cosa vuol dire? Che ARA ha fatto le maglie di otto nazionali minori UEFA sono state presentate tutte in occasione tra l'altro il quindicesimo anniversario dell'esistenza di questo programma sono state lanciate a Palazzo Marchi a Parma e oltre a San Marino ci sono anche Andorra, Bielorussa, Cipro, le Isle Ferroer, l'Istenstein, Lussemburgo e Malta. E la maglia di San Marino è questa con lo stemma della federazione in serigrafia devo dire che non mi dispiacciono la seconda e la terza la seconda e la terza con queste greche la terza ha questo blu scuro con azzurro che a me piace molto ci sta a me piace molto la seconda la prima non mi sconquifera un po' troppo semplice secondo me è stato un po' severo quel tweet rispetto al risultato finale però mi piace l'esistenza di questo un bel programma di questo programma è bello che sia coinvolto il Reacomus un marco italiano di Parma che ha fatto tante maglie comunque entrate in qualche modo nella leggenda pensiamo che hanno fatto loro la maglia dell'Islanda agli europei in 2016 che gli diamo a questa maglia? intelligente ma non si applica sì, ci sta però rimaniamo sul kit assistance scheme perché ho scelto quella che io preferisco delle 8 che è quella della Bielorussia oh mamma mia a me piace da matti oh mamma mia cioè Tamarra molto Tamarra qua mi vedo la donnina a cucire non Tamarra Ibiza occhiale da sole fasciante cioè Tamarra musica popolare a palla fisarmoniche e festa di paese sì, c'è molto grappa fatta in casa queste cose qua che a me piacciono mi piace soprattutto la seconda c'è questo color menta che secondo me ti riporta subito al latte menta c'è la bevanda fresca estiva ecco, è perché è la maglia fresca per l'estate anche un po' pigiamino fresco estivo sì credo sia il primo pigiamino fresco cotone quella verde che la prima però credo che sia anche il primo pigiamino fresco estivo della stagione visto che è una delle nostre categorie oltre però non mi dispiace neanche questo Granata Amaranto la prima maglia e mi piace questa greca perché mi piacciono quei motivi ornamentali un po' tradizionali non so se ti ricordi anche la Moldavia aveva una maglia un po' con queste cose mi piace no no il motivetto qui è sbollorditivo è proprio bello è elaborato bene stiamo valutando la prima o la seconda o il mix? direi facciamo il mix facciamo il mix di entrambe se tu mi avessi presentato soltanto la prima avrei detto perché ma ora che mi fai vedere anche la seconda perché io lo so che ti piacciono queste sfumature colore della scorsa estate sì perché il latte menta è andata di moda è vero tornato il grande revival del latte menta questo fa sempre parte del sì in questo caso chapeau allora io invece dico chat up attenzione perché io questo è il primo di oggi è il primo di oggi questo latte menta lo indosserei orgoglioso andiamo andiamo oltre sempre maglia delle nazionali e c'è la maglia della norvegia scus ma che cosa mi rappresenta questa S non lo so la norvegia ha sempre queste maglie un po' cos'è la seconda? ma la norvegia io prendo spunto da questo tweet in cui dice questo deve essere il peggiore downgrade da quando il liverpool ha rimpiazzato luis suarez con ricky lambert perché questa era la maglia che aveva prima la norvegia eh dai cioè spatolato morbido quasi questo il ghiaccio aveva una certa identità tamarro con giudizio qua perché? io dico cioè non è una grande caffonata però secondo me non si merita una classifica cioè si merita l'ultimo post non ha nemmeno abbastanza elementi abbastanza carisma da dire che è una caffonata io la metto alla fine proprio in fondo sotto sotto sì dunque esistono nazionali che non esistono ed era una delle mie grandi passioni fino a qualche anno fa e di solito queste fanno tutte parte della CONIFA che è una confederazione che contiene un po' di tutto quindi nazionali di paesi non riconosciuti tipo l'Apcazia l'Ossezia del Sud o anche di entità storiche tra virgolette o altre regioni che vogliono dovevano giocare l'europeo peraltro a inizio giugno ma la città di Mizza non ha più dato soldi finanziamenti permesso e quindi non si è disputato avrebbe dovuto partecipare la Padania avrebbe dovuto partecipare la nazionale della Sicilia la nazionale del regno delle due Sicilie e quindi abbiamo anche una sovrapposizione state prendendo appunti e la nazionale poi vi fa l'esame e questo vale per il compito di storia vale nel voto finale è un'altra nazionale di Siculi perché Siculi è il termine italiano con cui vengono definiti gli abitanti dello Sekely Fold in ungherese o Zinitul Secujeschi in romeno che è una regione della Romania che maglie stiamo guardando guardiamo invece una delle altre partecipanti sarebbe dovuta essere la Sardegna Sardegna che ha presentato questa nuova maglia il marchio è Ai Eie non lo so come si legge che è un marchio sardo questo l'abbiamo già visto abbastanza famoso ma fa delle maglie di vari sport anche penso sia partito da Dinamo Sassari per fare un po' di maglie di pallacanestro tra cui quella della pallacanestro Cantù quindi fa un po' di maglie sia in Sardegna sia all'estero fra l'altro anche in Polonia ho visto nel paese del nostro caro collega Paweł e questa è la nuova maglia della nazionale Sardegna di Bocia perché si dice Bocia credo se non mi ricordo male sono sicuro di una cosa non mi ricorderò niente di quello che mi ha appena raccontato ma mi ricorderò assolutamente questo motivetto questo pattern che questa secondo me è già la seconda maglia pigiamino fresco cotone dell'anno lo è ma con un certo stile ha poi qualcosa in più secondo me in termini di stile mi piace ti piace mi piace mi piace mi ha preso un bel colpo d'occhio un bel effetto ti amarra con giudizio non ha cose che mi fanno dire che brutta chapeau 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 la nazionale Sarda peraltro ha giocato di recente una partita contro la già citata nazionale della Sicilia nazionale Sarda peraltro allenata da Vittorio Puscedo vecchia conoscenza della serie A ha giocato in questo torneo che si chiama Antudo Cup a Mazzara del Vallo l'hanno giocato Antudo sta per Animus Tours Dominus che è uno un motto legato ai Vespri Siciliani quindi alle rivolte del 1282 ok e appunto è una competizione ispirata ai Vespri Siciliani hanno giocato anche la Sicilia è allenata da Giovanni Marchese ex giocatore di serie A e la Sardegna ha perso 4 euro ai noi però quindi insomma chi siamo noi per non valutare anche la maglia della nazionale siciliana nazionale siciliana che ne ha tre di maglie e le tre maglie hanno tutte un nome un nome che ha un riferimento storico quindi la prima maglia è Vespiru quindi Vespro la seconda maglia è Federico e la terza maglia Ruggero Vespiro Federico e Ruggero che il colpo d'occhio è importante devo dire c'ha un po' una è la maglia della Roma l'altra è la maglia del Lecce e l'altra è la messina di Croata sì ecco sembra un po' rimane un po' l'unica l'unica punto che posso fare a queste maglie è che secondo me c'è poca continuità tra di loro a me piace quando prima seconda e terza maglia hanno degli elementi che rimandano e quindi qua potrebbero essere le tre maglie di tre squadre diverse qui c'è l'elemento diagonale che comunque ritrovi in ogni versione questo ci sta può essere comunque per andare sulla storia appunto Vespiru la prima maglia richiama l'insurrezione Vespo Siciliana nel 1282 e ha anche il vessillo Eatrinacria appunto in mezzo ed è la bandiera adottarono i siciliani contro gli Angiò il vessillo giallo-rosso in omaggio all'alleanza tra Palermo e Corleone che erano le due città in sorte e questa è considerata una delle prime bandiere della storia addirittura Fidericu invece è ispirata al re Federico III che appunto istituì lo stato siciliano mentre Ruggero si fa si rifà a re Ruggero II fondatore del regno di Sicilia nel 1930 io non posso che dire chapeau perché comunque sono belle sono fatte bene hanno anche loro elementi per essere una piccola squadra nazionale non riconosciuta sono hanno un bel lavoro dietro chapeau ti vedo combattuto ma si diamo va bene sei d'accordo pensavo che stavi per schiacciare il pulsantone no no sono d'accordo con te bene con questa puntata abbiamo cominciato a giuro la prossima la prossima facciamo delle cose più normali anche se aspetta adesso anche se anche se nella prossima ho già preparato però abbiamo un po' di maglie importanti da fare quindi torneremo a luglio con altro con un'altra tirolista con delle maglie un po' più commerciali ve lo promettiamo vero Damiano ma non ti preoccupare che non farò non ti farò mancare una storia interessante un qualcosa ok confido in te intanto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale mettete un like a questo video se vi è piaciuto se ancora non l'avete fatto se non ce l'avete sul vostro telefono scaricate la nostra app perché io e Damiano produciamo contenuti anche per l'applicazione di OneFoot quindi ci potete ci potete trovare lì tutti i giorni con i nostri video verticali e mi raccomando e mi raccomando è vero noi vi portiamo meno video lunghi di quanto eravate abituati un solo video lungo a settimana ma chi altro vi parla nazionale sarda e sicula su youtube se non hai ancora schiacciato quel pulsante io ho una sola domanda grazie a tutti grazie a tutti